Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi alleneremo i dorsali e le spalle. Ovviamente cominceremo con la lat machine, proveremo a fare i 46 kg. Non so che cosa succederà onestamente, i 44 kg sono già pesanti, però se io non lo vendo mai rimarremo sempre così. Proviamo a fare i 46, non so 3 ripetizioni, 4, se ne riesco a fare 5 meglio ancora, però prima andiamoci a pesare. Ragazzi siamo di nuovo a 60 kg. Grasso corporeo 13,7. E' tornato ad aumentare dall'1,5% rispetto alla volta scorsa e 200 grammi in più sul peso corporeo. Ragazzi 48 kg, 20 kg e 46. Ok. Prima serie fatta, non serie proprio così tanto l'una, quindi presuppo che non ce la possa fare. Ragazzi, secondo esercizio, Latte Machine Triangolo, 4 serie per 10 con 40 kg, aumentiamo anche qui. Terzo esercizio, remantone singolo, capo basso, faremo 3 serie per 8 ripetizioni con 22 kg. Probabilmente non è l'esercizio, aumentiamo anche l'esercizio, e facciamo l'esercizio. Adesso ragazzi, pull e passo, 4 serie per 10, 40 kg. Ragazzi, ultimo esercizio, stacco. Però, qui, andiamo a calare il peso. Passiamo da 90 kg a 40 kg. Questo perché oggi ho distrutto i dorsali abbastanza. Quindi, mi serve un po' di calo peso sullo stacco, perché è un esercizio difficilissimo. In più, 90 kg erano già pesanti per me. Quindi, cosa andremo a fare oggi? Andremo a calare il peso a 40 kg, però automaticamente faremo 10 ripetizioni che 5. per 3 serie sempre. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Ciao. ebbene ragazzi stacco fatto ovviamente fatto come si deve in mobilità controllata come se avessi fatti 90 kg ora andremo a fare le spalle con il primo esercizio abbiamo la military press con 38 kg 3 serie per 5 adesso si tocca fare alzate frontali tavo basso 8 kg 3 serie per 10 si tocca I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. Ovviamente andremo a fare laterali anche al capo basso però non con 8 fili ma con 6, 3 serie per 10 sempre. All the same tracks, listen all night in the sheets all black, said I'm falling fast, don't remember life, but for you that's fast. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, I freeze time, I first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, So catch me if I fall. Adesso ragazzi, dei tuoi posteriori ovviamente li faremo sempre con 20 kg, 3 serie per 10. Ciao bec. I'll see you, Seth. I'll see you next time. I'll see you next time. Bye. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.